Nel fine settimana la regione sarà soggetta a una depressione fredda in arrivo dal centro Europa che porterà il fronte più importante nel pomeriggio sera di sabato. Quindi per la giornata di sabato una giornata di variabilità sulla regione, probabilmente contemporanei più diffusi sul territorio nel pomeriggio sera, mentre al mattino potrebbe eserci qualche fase di tempo migliore con qualche schiarita. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi in pianura, 17 sulla costa, massime intorno ai 22-23 gradi. Da dire che sulle vette più alte delle Alpi è possibile che cada la neve nella serata. Per quanto riguarda domenica avremo un miglioramento con probabilmente un cielo nuvoloso al mattino su gran parte della regione, ma poi nel corso della giornata vi sarà qualche schiarita, specie dal pomeriggio, e le temperature risaliranno portandosi intorno ai 23-24 gradi su pianura e costa. Non è n'escluso che col sole nel pomeriggio sui monti si possa formare qualche isolato rovescio. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana avremo variabilità nella giornata di lunedì, ancora con temperature piuttosto basse e la possibilità di qualche rocale rovescio, mentre martedì avremo cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, giornata più stabile, ancora però con temperature piuttosto fresche, minime intorno ai 10 gradi in pianura e massime intorno ai 22. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'Arma, un saluto da Marcellino Salvador.